L'inipeto della destra populista è proprio il condito di offese, di contumeli e di ragionamenti molto semplificati. C'è l'idea, si insinua l'idea che la complessità sia un'invenzione e che la cultura sia qualcosa per anime debosciate. In fondo Goebbels diceva, quando sento la parola cultura metto mano al revolver, noi su quella ring della box dove la politica diventa contesa come le giostre medievali, come i duelli erusticani, noi non ci dobbiamo salire. Credetevi, noi la politica la dobbiamo vivere come un'occasione di conoscenza, come una forma di autoeducazione alla complessità. E se posso dirlo, contro il plebeismo di un linguaggio urlato, di una pornografia di Stato, noi dobbiamo riscoprire l'eleganza della battaglia politica fatta di passione alta. Questo è quello che vi suggerisco. Questo è quello che vi suggerisco.